Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La stagione festiva della famiglia di Sara Caretto, 40 anni, si è trasformata in un dramma quando la donna è improvvisamente scomparsa a Londra. Sara si trovava in vacanza con il marito e i loro tre figli, di 17, 14 e 10 anni, insieme a diverse coppie di amici. Attualmente, la causa del decesso è sconosciuta, e il marito, ancora sotto shock, ha rifiutato di fornire dettagli. La famiglia, originaria di Marconi, nella provincia di Venezia, era in Inghilterra per trascorrere le vacanze natalizie in un'atmosfera rilassata. Tuttavia, la morte improvvisa di Sara ha gettato la famiglia nello sconforto. La quarantenne aveva avvertito un malessere improvviso la settimana scorsa, ed è stata immediatamente portata in ospedale dal marito. Nonostante le cure dei medici, purtroppo, è deceduta. Amici e conoscenti affermano che Sara godeva di ottima salute e non mostrava segni premonitori. Il sindaco di Marconi, Matteo Romanello, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia, e le forze dell'ordine sono state informate per le formalità del rimpatrio della Salma da Londra. La data dei funerali sarà stabilita una volta completato l'iter per il rientro del corpo.